Ben ritrovati a tutti, oggi venerdì, chiusura della settimana dedicata all'arte e questi giorni abbiamo avuto come ospite dal Veneto il grandissimo maestro Franco Anselmi. Grazie per aver trascorso tutta la settimana qui insieme a noi per raccontarci della sua vita, le sue opere, le sue esposizioni in giro per il mondo, oggi così ultima giornata faremo un po' un riepilogo di tutte quelle che sono le sue esperienze artistiche ma prima di riraccontare, ripercorrere quelli che sono stati i suoi tratti fondamentali nella sua carriera artistica volevo spendere due parole per questo libro antologico che si chiama Anselmi Prevenzioni Antecatastrofe che è una sua ontologia con tutte le sue opere degli ultimi anni, un libro del 2010 che raccoglie un po' i suoi personaggi che sono diventati così caratteristici nel suo modo di fare arte con tutti i vari commenti dei vari critici d'arte tra cui Erminio Mazzucco piuttosto che Sgarbi che le hanno dedicato delle frasi, dei commenti, una critica dedicata proprio al suo modo di fare arte. Io vorrei il piacere di spendere proprio due secondi proprio per leggere un commento che ha fatto Sgarbi in un suo libro che si chiama le scelte di Sgarbi dove appunto ha scelto lei tra altri artisti proprio per commentare questo nuovo modo di fare pittura e l'ha identificato in questo modo. Anselmi è un pittore che si distingue sulla scena contemporanea per il coraggio che dimostra nel respingere la tentazione di fare filosofia o sociologia come troppi suoi colleghi. I suoi quadri si conducono nel mondo degli animali, spassosi gatti guerrieri, omici monocoli con un po' sbronzi davanti a una bottiglia in cui annegano chissà quale dolore, civette e gufi ileri inoffensivi. Il divertente zoo di Franco Anselmi è anche un po' il coscenico di animali grossi ma non grossolani, pensiamo agli elifanti a cui fanno da contrapunti i cavalli che sembrano così un po' matti. Il suo universo è popolato anche da giocolieri baffuti in stile anni 30 di signori incappellati e persino di madonne con bambine che si intrecciano in un immaginario pseudo cubista. Insomma una panoramica delle sue opere realizzate negli ultimi anni e chiaramente definite secondo mio parere anche giustamente come dice Sgarbi non in chiave per forza di cose sociologica nonostante lei sia laureato in sociologia quindi ne avrebbe da raccontare e da spiegare probabilmente a fare un certo tipo di divulgazione anche così con uno scopo doppio scopo di arte ma anche scopo morale invece questo lei non lo fa. È andato contro tutto quella che è insomma la nuova forma mentis di fare arte contemporanea invece ha dedicato e ha pensato di fare un'arte più di cuore dove lascia agli altri poi quella che può essere l'idea più o meno valida di dare una morale alle cose insomma dico bene. Allora praticamente il titolo di questo catalogo è prevenzione anticatastrofe e nel mia intenzione era di dare una chiave di lettura della vita non in termini pessimistici neri come spesso ci si trova di fronte non so alla televisione telegiornale con tutte queste notizie negative che ci fanno vedere la vita peggiore di quella che potrebbe essere io cerco di farla vedere invece in tono ottimistico in tono più solare quindi per evitare la catastrofe che sarà imminente verrà quando speriamo più tardi possibile e che sia dovuta alle nostre visioni negative questa catastrofe ecco allora noi per evitare questo io ho fatto la controparte ossia ho fatto la parte solare la parte più più positiva se vogliamo della visione che abbiamo della vita quindi sdramatizzare certo da questo lato già è sociologico questo discorso qua anche se gli scarbi dice che non lo non lo faccio non lo faccio apparentemente ma in realtà sotto c'è il discorso sociologico anche con i significati dei degli animali cosa rappresentano le situazioni umane è sociologia anche se è criptata se vogliamo da un sotto un velo più più piacevole più diverso a fruibile anche da chi di sociologia non ne capisce niente oppure che non vuole neanche entrare nel nella serietà dei di certi argomenti quindi diremo così che mi rivolgo così più che altro a creare una situazione di positività e di allegria se vogliamo nelle nelle persone che già sono subissate da cose negative la linea che abbiamo di pensiero insomma e poi dicevamo appunto leggendo sempre così la critica di sgarbi il suo utilizzo prevalente proprio degli animali che anche questo qui ha una ricerca storica voluta gli animali come abbiamo già detto anche nelle puntate scorse hanno loro significato intrinseco ogni animale alla sua caratteristica di rappresentare l'uomo in pratica qui abbiamo ma ancora da parlare dell'elefante per esempio che non abbiamo ancora accennato oppure altri animali che l'ibis per esempio anche il camaleonte che sono tutti animali con un unico denominatore che li accomuna ovvero quello di essere tutti rappresentati di profilo non si sa se questi animali sono positivi o negativi perché non si sa quanti occhi abbiano la vita non ha mai certa non abbiamo certezze definitive quindi qualsiasi cosa ci sembra anche positiva potrebbe essere negativa o viceversa quindi è sempre da vedere quindi i miei animali visti di profilo possono essere positivi o negativi a seconda delle situazioni il camaleonte sicuramente rappresenta gli uomini politici con tutti i ribaltoni che abbiamo avuto mi è venuto in mente di fare anche il camaleonte poi non so l'elefante invece già dalle culture soprattutto dell'est rappresenta la verità l'elefante bianco in india è visto come la fonte della riconoscenza della luce illuminazione a proposito apre una parentesi abbiamo tra l'altro un bellissimo quadro qui alle sue spalle dove c'è proprio l'elefante bianco rappresentato con tutti i micioni sopra e anche questa è una chiave simbolica molto forte perché nasconde una storia in realtà questo quadro è una storia indiana che dice che l'elefante bianco essendo fonte di illuminazione di conoscenza era ricercato da questi personaggi che andavano a cercarlo di avere il contatto per avere la verità a un certo punto lo trovano erano tre nella favola indiana appena trovano sto elefante si aggrappano a lui e ne traggono la conoscenza poi si ritrovano dopo anni e si dicono che conoscenza ne hanno ricevuto e questa conoscenza è diversa da ognuno per ognuno di loro perché uno si era attaccato alla proboscide l'altro all'orecchio e uno alla gamba quindi hanno avuto dalla stessa fonte di conoscenza tre aspetti diversi e questo è simboleggiato come la nascita delle tre religioni monoteiste io qua ne ho rappresentato un quarto gatto che sarebbe l'uomo che si è attaccato perché poi ci sono tutte le sette nuove che sono fuori del più moderna quindi ho aggiunto diremo in divenire cosa succede a questo elefante ci si attacca continuamente con le nuove religioni che vengono fuori e tra l'altro l'ultimo attaccato proprio a una gamba proprio per dire che di succo poi ne ha capito poco no di quello arrivato è vero quindi insomma l'elefante bianco il camaleonte che rappresenta il il potere politico corrotto che cambia sempre di colore sempre con un occhio solo in questo caso perché chissà magari i lati positivi non ne so camaleonte pieno di colori quindi rappresenta tutto l'arco parlamentare se vogliamo parlare della politica oppure anche altre situazioni può essere la camaleonte e lo faccio di solito aggrappato una tartaruga che rappresenta il carrozzone in quel caso quindi si aggrappa a quello che va con grande lentezza si procede ma si procede infatti poi c'è un altro animale che non abbiamo ancora parlato che invece proprio quello dei suoi primissimi anni no il cavallo il cavallo che ha tutta un'altra storia se cavallo è importante per me perché io ho fatto cavalli da sempre anche prima di avere questo stile nel surrealismo che facevo prima il cavallo era molto importante anticamente il cavallo lo rappresentavo sempre anche in modo tradizionale come pittura lo rappresentavo sempre libero mai montato cavalcato legato in qualche modo era sempre libero perché per me il cavallo rappresenta proprio la libertà vedere un cavallo che si muove in un prato con la criniera il vento che non sta fermo a dei movimenti che non hanno senso dal senso della libertà di potersi muovere come si vuole e questo mi è rimasto come come impressione quindi il cavallo per me è simbolo di libertà simbolo di di coloro che cercano di raggiungere qualche obiettivo cavalcando quindi la velocità la dinamica essere non statici essere non fermi su certe posizioni anche anche come dire stereotipi quindi il cavallo è qualcosa che che cammina come dovrebbe essere l'animo umano mai fermarsi sempre avanti sempre di corsa e poi è cambiato nel tempo questa forma del cavallo si è stilizzata sempre di più fino ad arrivare a quella che abbiamo oggi e rappresenta sempre comunque la voglia di progredire tra l'altro infatti il cavallo rappresenta proprio un simbolo anche di forza è un elemento positivo io qui se riusciamo ne inquadrerei qualcuno proprio per far vedere insomma la differenza proprio della del modo di rappresentare questo animale rispetto agli altri in questo caso il cavallo vedi qua qui rappresenta una fecondazione quindi il cavallo anche nella storiografia nell'iconografia mondiale diremmo è sempre considerato come un simbolo di vitalità di virilità e quindi viene viene come dire di fertilità e quindi viene proposto in tanti ma come l'unicorno per esempio l'unicorno che è la fantasia anche lui è rappresentato come simbolo di fertilità di virilità e di purezza tanto è vero che molto spesso si trova rappresentato nelle sue opere proprio accompagnato alle donne ovvero la criniera bella folta nera del cavallo affiancato magari una bella donna sensuale nuda anche lei con i suoi capelli che le cadono sulle spalle proprio in abbinamento questi lati simbolici che si ripercorrono sempre di buon proposto buona propositivo è propositivo per una vita sempre migliore significato bello forte no tutto quella vitalità è vero la vita non si può fermare è vero assolutamente e giovedì abbiamo chiuso la parentesi della puntata iniziando a parlare un po di arte di arte contemporanea cosa ne pensano se il mi riguardo al nuovo modo di fare arte insomma lei mi diceva più legato a una forma mentis più tradizionale vede l'arte siccome in continua innovazione però innovazione fatta in un certo modo che deve lasciare un messaggio fisico non soltanto allora io per tanto tempo ho avuto questi pensieri di dovermi inquadrare diremo in un certo contesto nel mondo dell'arte e questo mi è sempre stato molto pesante nel senso che riuscire a inquadrarsi per me è come una forma di schiavitù una prigionia per cui a un certo punto nel 94 che ti dicevo quel che ho avuto questa grande crisi personale che ho deciso di cambiare tutto anche la stile di pittura quindi lì ho deciso che non seguivo nessuno non volevo più seguire nessuno né costringermi a seguire certi scari certi canoni per essere accettato dal mondo dell'arte ed è stato il momento in cui invece ho avuto qualche riscontro nel senso che prima che facevo il surrealismo per esempio no facevo surrealismo con canoni da surrealista e nonostante la capacità del tecnica di dirgli di svilupparlo anche bene perché adesso li rivorrei purtroppo invece non mi ci trovavo quindi adesso mi sento più libero quindi libertà uguale energia in questo caso uno fa quello che il cuore gli detta ed è il raggiungimento poi della del traguardo più bello no la soddisfazione di produrre bene e produrre come uno vuole fare perché l'artista poi deve essere snodato da tutti quelli che sono stereotipi dunque io purtroppo ripeto le traduzioni sono sempre velocissime perché il tempo stringe io devo chiudere dobbiamo purtroppo chiudere questa settimana insieme ad anselmi però mi premeva ricordare che qualsiasi informazione voi vogliate sull'artista c'è il suo sito che poi comparirà in sotto impressione qui in modo che potrete andare a vedere la storia la vita le opere e anche tutte le curiosità legate alle sue opere perché chi non avesse avuto modo di seguirci sappiate che dietro le sue i suoi quadri ci sono tutti i simbolismi che lo racchiudono lo contraddistinguono allo stesso tempo un ringraziamento particolare a luigi foschini della bottega golini dimola che tra l'altro il rivenditore insieme a insomma alle opere di di anselmi quindi potrete trovare le proprie opere io devo chiudere purtroppo la settimana insieme ad anselmi in modo veloce rapido lo ringrazio tantissimo per aver partecipato al nostro programma speriamo di rivederci presto in una nuova occasione in una nuova veste magari con delle nuove opere di rientro dalla nuova zelanda che sarà un nuovo una tappa di un settembre 2013 esatto settembre 2013 dopo ci racconterà tutte le news dal insomma dall'oceania insomma e tutte le novità anche da quel mondo di quella parte di arte che sicuramente merita di essere anche commentata e analizzata quindi velocemente vi saluto ci vediamo la settimana prossima con un nuovo artista sempre qui da imola dalla bottega golini arrivederci ciao